Sono Monica Frassoni e sono un'italiana ma sono anche profondamente europea e oggi mi sento molto arrabbiata e anche molto indignata rispetto all'incapacità o la mancanza di volontà del mio governo, del governo italiano, di gestire quella che non è un'emergenza e cioè l'arrivo di 629 migranti o 629 persone che probabilmente domanderanno l'asilo nel territorio italiano. Questa non è un'emergenza ripeto, non siamo di fronte ad un'invasione, siamo di fronte ad una necessità, ad un problema, ad una questione che è perfettamente gestibile e bene da un paese di 60 milioni di abitanti. Il messaggio che è stato mandato dall'Italia e anche dall'Europa che non riesce a trovare una soluzione condivisa, solidare, strutturale a quella che ripeto non è un'invasione è oggi per me un motivo di grande frustrazione e di grande tristezza. Sono naturalmente come molti altri italiani grata al governo spagnolo e a Pedro Sanchez di aver voluto aprire i suoi porti per l'arrivo di questa nave ma sono anche cosciente che ci vorranno ancora tre o quattro giorni per arrivare, che le condizioni del mare potrebbero essere pericolose e che si sta cercando di mettere in atto un'azione, un'operazione particolarmente complicata di salvataggio di una parte di persone che sono su questa nave. Quando sarebbe molto più semplice semplicemente accoglierla in un porto italiano come è già successo in molte altre occasioni. Credo che per arrivare ad una soluzione, per arrivare ad una reale trattamento razionale di questo di questo grande problema noi abbiamo bisogno di gesti molto forti e quello del primo ministro Pedro Sanchez è stato un gesto molto forte ma sfortunatamente non ancora una soluzione strutturale perché ci saranno altre navi, ci saranno altri rifugiati, ci saranno altre vittime e questo è una cosa che è veramente intollerabile per il continente europeo e per un paese come d'italia